buongiorno a tutti ragazzi bentornati sul mio canale un saluto a tutti da leonard e andiamo a ricensire un bellissimo prodotto un cavaliere del mare del 1990 giochi preziosi in particolare al modo cavallo del mare scusate stavo dicendo dragone del mare perché guardando la confezione come potete vedere il personaggio che è stato portato qui è dragone del mare c'è sempre stato questo errore nelle due scatole hanno invertito i personaggi sulla scatola di dragone del mare troviamo cavallo del mare e sulla scatola di dragone del mare il cavallo del mare troviamo un altro questo errore spesso e volentieri lo si poteva vedere anche nella parte posteriore qui invece l'hanno corretto questa è la parte stampata correttamente come vedete quello anche scatola ho scritto by bandai quindi avevano corretto anche andrometa la notte a guida di bronzo avevano invertito i nomi in alcune edizioni e anche qui li hanno messi a posto quindi la parte posteriore è corretta mentre non hanno cambiato questa questa frontale quindi non c'è assolutamente non troverete mai un cavallo del mare dove qui c'è l'omino esattamente il personaggio di cavallo del mare ma li avrete sempre invertiti andiamo a vedere come è fatto questo personaggio scatola a tempio istruzioni e andiamo a vedere e a montare è un cavaliere un po datato in buone condizioni con tutti quanti i pezzi adesso lo vorrei un pochettino montare andiamo a vedere come è fatto così cercherò pian piano di questa parte si è incastrata ok un po vedere come questo personaggio veniva venduto nel 1990 allora è completo di tutti i pezzi ce ne sono parecchi ai cavalieri del mare veramente erano delle armature complete di tanti pezzi ma anche i cavalieri di asgard in questa edizione hanno cominciato a mettere molti pezzi di più per esempio erano più scarni i cavalieri di bronzo con la seconda armatura rispetto a questa edizione qui quindi era un'armatura abbastanza coprenti un po come le armature d'oro ci sono diversi pezzi alcuni anche di che vengono montati su alcuni supporti andiamo a vedere un po come si presenta questo personaggio allora intanto l'omino abbastanza rigido sono quasi tutti col corpo blu scuro qualcuno era diverso ce l'aveva rosso come appunto il dragone del mare siria ce l'aveva rosa ogni personaggio aveva il suo suo corpo con colore diverso capelli marroni occhi azzurri personaggio nella serie dura pochi episodi andiamo a montarlo allora cominciamo come sempre dal basso quindi andiamo a montare i i gambali guardate gambali che hanno questi perni che si muovono questi sono perni mobili per andarlo poi a realizzare quando viene montato sul cavallo no quando venivano montati c'erano questa parte qui che facevano i piedi quindi bandai si inventò di pezzi abbastanza mobili cambiò molto la realizzazione del personaggio dopo che la realizzazione dei personaggi nella nella seconda edizione quindi cavallieri del mare cavallieri di asgard ma avevano veramente delle una qualità costruttiva dei pezzi sempre più più difficili tra virgolette da montare sempre più dettagliati qui ci sono le le cavigliere andiamole piano piano ad agganciare una e due io queste le voglio sempre forzare molto lentamente da bambino come se ne è rotta una ci rimasi malissimo si misi un po' di colla però non la voglio danneggiare ecco qui il pezzo frontale guardate il pezzo posteriore voglio farvi vedere questo dettaglio ci sono questi perni già attaccati che si muovono alle quali poi andranno attaccate le ali tutti i cavallieri del mare praticamente a parte nettuno avevano le ali questa è una cosa che mi era piaciuta tantissimo l'ho veramente adorata questa cosa perché effettivamente era era molto bello qui si attaccano dei perni laterali un po come su artax e questi perni insieme alle spalline tengono ferma unita le due placche dell'armatura cerchiamo sempre di fare molta attenzione perché eccole qua uno e due eccole qui mentre qua sopra andremo a montare le due spalline eccole qua una e due fate sempre molta attenzione a questi perni così come l'avete fatto per pegasus di fuoco per altri personaggi perni in plastica non andate mai a forzarli premeteli sempre con molta delicatezza fateli entrare molto lentamente nella loro sede in modo tale che non si vada a danneggiare il personaggio eccolo qui andiamo a montare il resto dei pezzi sono quelli un po più semplici uno due guardate che bello che ha praticamente un copripugno un po come oggi hanno i mitt no e montare anche questo cerchiamo di piegare leggermente il braccio e centrale questo pezzo questo personaggio è stato montato esposto e rimontato nella nella sua nella sua scatola andiamo a mettere le ali di questo personaggio vedete sono le ali che devono entrare praticamente in questi perni eccole qua e questa operazione va fatta molto delicatamente ecco una sempre molta paura io con le parti in plastica a forzarle non è come nell'edizione ovviamente 2004 dove praticamente si rompono soltanto a guardarli però sempre meglio non non danneggiarli di 12 c'è poi frontalmente ecco qua ma qui c'è la coda e ricorda i stessi identici pezzi montati in quattro lati come hanno poi realizzato i mit ex ento una cosa grandiosa pensate un giocattolo 1990 un modellino 1990 che già pensavano a queste giunture che le hanno poi replicate per fare degli ottimi personaggi nel negli anni 2000 15 anni dopo c'è stata una cosa eccezionale eccolo qui il modellino è montato lo appoggio delicatamente sulla sulla scatola perché le ali ovviamente si possono flettere adesso andremo a vedere a 360 gradi su piattaforma rotante è un bellissimo personaggio è difficilissimo da reperire tra i caglieremani sono tutti difficili da reperire nettuno in particolare ma questo in queste condizioni non è facilissimo da trovare scatola poi in ottime condizioni se vi capita il prezzo si aggira intorno alle 50 60 euro bella anche l'edizione del 2004 unico difetto di questa edizione la parte dorata di cavalieri del mare tendeva facilmente a ossidarsi rispetto ai cavalieri d'oro che mantenevano molto di più la doratura infatti anche nella recensione che se andate a vedere di dragone del mare se andate sul mio sul mio canale lo noterete leggermente ossidato questa è una caratteristica che purtroppo avveniva sui cavalieri del mare però le condizioni sono veramente ottime specialmente le le parti ramate che sono sono rimaste intatte quindi a tra poco con la visuale a 360 gradi su piattaforma rotante amici benvenuti sulla visuale in verticale a 360 gradi sul piattaforma rotante spero si veda bene il personaggio possiamo ammirarlo in tutta la sua bellezza un cavaliere veramente ben fatto anche se l'armatura un po un po tozza tra virgolette non ha delle parti abbastanza ampie il il corpo è abbastanza chiuso non ha delle parti degli spuntoni sulle gambe se ce ne sono dei piccolini non ha degli spuntoni sulle sugli avambracci diciamo è poco dinamico tra virgolette ma d'altronde era così anche anche sulla serie se date un'occhiata al cartone a come disegnato qui c'è praticamente un'inversione dei colori in questo questo personaggio hanno praticamente fatto le spalline ramate con il corpo dorato bracciali ramati con la parte che va sul sui bicipiti dorati con le scaditori e qui hanno presenti invertito i colori per il cavaliere di cavallo del mare hanno realizzato in questa in questa colorazione e la bandai ha ripreso quella che era la colorazione del manga ricordiamoci sempre che questi modellini sono stati realizzati quando la serie ancora non era stata prodotta a cartone molti di questi modellini la maggior parte quindi li hanno sempre realizzati basandosi sul fumetto sul manga quindi su delle pagine in bianco e disegnava il cartone con alcune illustrazioni che si potevano trovare sulle copertine e quindi hanno tentato di realizzare questi modellini durante la messa in onda della serie ma quando ancora alcune puntate non erano arrivate tant'è vero che molti cavali di doro hanno alcuni ornamenti delle loro armature per esempio i gambali di leone ma anche quelli di vergine che riprendono esattamente la conformazione del del fumetto mentre nella serie anime poi l'hanno leggermente ridisegnato leggermente modificato stessa cosa con le colorazioni quindi avevano mandato in produzione dei personaggi che poi ovviamente quando queste puntate sono state tra virgolette trasmesse in parallelo e si siamo ritrovati con delle piccole incongruenze nel questa edizione bandai quindi la giochi preziosi importava nel 1990 quelli bandai questi pensate soltanto in italia che questi giocattoli questi modellini sono arrivati prima ancora della messa in onda di queste puntate perché quando sono usciti questa edizione qui questi cavalieri già a novembre li ho visti del 1990 lo ricordo molto bene perché per il comprano di un mio amico che era li primi di novembre era stato regalato il cavaliere di siria poi ne parleremo quando andremo a recensire e la serie questi episodi li hanno cominciati a fare a fine gennaio primi di febbraio cioè due mesi dopo stavano in italia trasmettendo la seconda parte delle delle dodici case quando erano state poi terminate durante la proiezione dell'episodio della casa del leone quindi hanno mandato una prima puntata di asgard poco prima delle feste di natale così introducevano le nuove armature quindi il combattimento tra mizar e i cavalieri nella villa di isabel avevano introdotto alcuni personaggi una piccola panoramica dei cavalieri di asgard e poi c'erano le nuove armature quindi sono arrivate nuove armature in italia c'era anche aquila di bronzo quindi c'era anche castalia hanno portato i cavalieri del mare e poi hanno portato anche i cavalieri di asgard ma ancora negativi asgard a parte una piccola presentazione non si era visto nulla di questi personaggi e soprattutto questi sono visti episodi più in là non si sapeva quale di questi era buono quale era cattivo quale si sarebbe era era valoroso non si sapeva nulla di questi personaggi ci si basava sull'immagine e sulla sull'estetica dell'armatura che poteva apparire dalla scatola quindi si è anche un po sfruttato questa cosa però devo dire che li hanno realizzati tutti tutti molto bene sono tutti molto belli i cavalieri del mare sono eccezionali secondo me superano anche quelli di asgard nel complesso ci sono alcuni di asgard che non è che mi sono piaciuti molto come li hanno fatti vedi luxor ma anche lo stesso megres non è che è stata molto bella quella poi la rivedremo insomma quell'armatura forse mime ma tra questi insomma un poccato certo se andiamo a confrontarli con bellissime armature come quella di artax quella di orion che sono meravigliose magari sono superiori a quelle quelle del mare ma nella media quelle del mare sono veramente ben realizzate poi questo accoppiamento di oro e rame fa ricordare quello del cartone parte ramata che ho sempre criticato perché l'hanno realizzata in equal modo per i cavalieri del 2004 l'edizione bicolor dei cavalieri d'oro ecco questo arancione qua questo colore ramato qua è troppo forte per quello che poi erano realmente le armature d'oro e c'erano quindi queste piccole incongruenze mentre che hanno fatto molto più chiara la parte dorata fin dal principio che poi ossidandosi un pochino col tempo si andava a schiarire quindi la parte dorata della nuova rispetto al cartone era un po tra queste sbiatita ecco lasciatemi passare questo termine e quindi c'erano alcuni piccoli alcuni piccoli difetti ovviamente di questa edizione hanno fatto anche l'edizione mit ex quindi se andate a comprare quelli vi troverete in mano un prodotto eccezionale questa recensione finisce qui spero che vi sia piaciuta e mi raccomando per qualsiasi cosa scrivete i commenti iscrivetevi al canale se vi va che mi fa piacere così magari quando arriveranno le notifiche di nuovi video potrete andare a vedere magari c'è qualche personaggio che vi suscita qualche ricordo magari anche qualche personaggio che volete acquistare proprio per la vostra collezione quindi spero che questa cosa vi sia utile e noi ci vediamo alla prossima recensione sempre su questo canale un saluto a tutti da leonard